Ciao a tutti, sono Onesi, oggi volevo fare un tutorial su come colorare la colla a caldo cioè su come colorarla con i glitter si può colorare anche con gli smalti, con gli ombretti e tutto quanto però io oggi lo colorerò con... cioè lo userò i glitter allora, parecchi di voi mi hanno chiesto dei tutorial in proposito e quindi io vi do dei miei consigli ovviamente ho iniziato da poco, quindi nel senso vi do quello che posso allora, innanzitutto io utilizzerò questi glitter qui che ho trovato dai cinesi e vanno, allora, sia che lo stampo sia opaco, sia che sia lucido e indifferente perché comunque davanti andranno sempre questi glitter e li posizioneremo come ho fatto qui io, in questo modo poi ne andremo a mettere di più, lo andremo a mettere qui a strisce, a strati, quindi viola, rosa, arancione, giallo e verde e li lasciamo così, riempiendo tutti gli spazi ovviamente quando andremo a posizionare lo sticker innanzitutto dovrete vedere se è troppo sottile di rivestirlo con lo scotch avanti e dietro come sono per esempio questi qui questi me li ha mandati Ali Crafty e ho provato a fare questo di Sailor Moon però era veramente sottilissimo e quindi ho dovuto rivestirlo con lo scotch avanti e dietro quindi rivestiteli con lo scotch se utilizzate degli sticker come sono questi per esempio sono abbastanza rigidi per la colla a caldo invece molto poco rigidi per la resina quindi vanno comunque rivestiti in questo caso dietro dovrete vedete che si appiccica io utilizzo degli stecchini così lunghi per tenerli fermi mentre tenerli in posizione così mentre io colo la colla a caldo quindi vanno va tolta praticamente un po' di colla cioè magari passateci passateli nei brillantini in modo tale che come vedete non appiccicherà più ecco in questo modo poi ora andiamo ora faccio passo passo e andiamo a posizionare i glitter qui nello stampo ecco qui abbiamo messo i glitter in modo da formare un arcobaleno tenetevi sempre pronta una seconda ricarica di colla da inserire nella pistola leggete sempre le istruzioni per quanto riguarda la pistola perché come ha detto già Ali Crafty può esplodere o comunque sia può andare in cortocircuito quindi leggete sempre le istruzioni sul vostro manuale io utilizzo ancora questa qui piccolina dei cinesi però perché tanto comunque l'esplosione o il cortocircuito ho visto che lo fa anche con quelle comprate in negozio quindi non so cosa consigliarvi sulla tipologia di pistola e colla a caldo da prendere però state sempre molto attenti comunque non tenetela mai accesa per troppo a lungo poi prendete lo sticker lo posizionate come volete all'interno prendete il vostro stecchino e iniziate a colare partendo dal centro e poi andando verso l'esterno ricoprendo tutti i bordi ecco qui abbiamo colato tutto abbiamo riempito bene tutti i bordi finora è andato tutto liscio quindi ora la lasciamo asciugare nel frattempo voi preparatevi questo pennello cioè un pennello qualsiasi io ho questo qui con le sedole più larghe diciamo e più rigido perché andremo a rimuovere i glitter in eccesso nella parte anteriore dello sticker nel frattempo vi do anche qualche consiglio su altri tipi di sticker cioè questi puffi sticker ovviamente se li mettete come abbiamo fatto in questo a faccia in giù vi andrà un po' di colla sopra e andrà a ricoprire in parte lo sticker intorno per evitare questo non so cosa dirvi cioè non fateli con lo stampo io li ho fatti e un pochino i bordi sono stati ricoperti dalla colla a me non importa molto sinceramente però se non volete che lo sticker sia ricoperto sui bordi insomma dalla colla fateli senza stampo prendete una carta da forno ci colate sopra la colla a caldo mettete lo sticker lo posizionate con uno stecchino altrimenti vi bruciate state attenti una volta posizionato ci mettete sopra i glitter nel modo in cui volete molto velocemente perché altrimenti la colla si asciuga i glitter non vi non vi restano attaccati e niente e lo lasciate asciugare e quindi avrete lo sticker il puffi sticker così su questi qui non so che altri consigli darvi perché per quanto riguarda lo stampo opaco come è questo qui o usate i glitter davanti e quindi non si vedrà che è opaco oppure un'altra cosa carina è che se rimane opaco e è una colla trasparente dietro potete passarci lo smalto passato lo smalto siccome è opaco vi darà l'effetto arcobaleno molto meglio di quello lucido questo è il consiglio che vi posso dare se avete visto un altro video il primo video scopriamo le creazioni in colla a caldo io avevo fatto in quel modo lì le conchiglie quindi andatevelo a vedere intanto lasciamo asciugare questo mettetelo sulla finestra così si asciuga più rapidamente eccoci qua ci siamo trasferiti in un posto con luce migliore perché ovviamente fateli sempre su cose che non si rovinino perché potrebbe colare la colla a caldo e quindi un macello lo tiriamo fuori ecco qua come vedete sono rimasti dei glitter davanti con il nostro pennello andiamo a eliminare l'eccesso e a me sembra già molto molto carina eccola qui abbiamo eliminato i glitter in eccesso ora con le forbici alla mano tagliamo tutte le parti intorno che sono in eccesso ed ecco qui la nostra Pinkie Pie arcobaleno fatta e tra l'altro è anche Rainbow Fight quindi perfetto e dietro è anche molto molto lucida se riuscite a vedere ho fatto Pinkie Pie in onore diciamo di Ali Crafty perché è la sua pony preferita e a me anche piace moltissimo e niente ditemi che ne pensate nei commenti e se avete altri dubbi io ve li dirò vi risponderò appunto nei commenti e niente spero che il video vi sia piaciuto il tutorial vi sia stato utile se lo è stato mettete like commentate iscrivetevi al mio canale se vi va e noi ci vediamo in un prossimo video un bacione ciao